Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro tendenze energetiche generali per la prima parte di aprile 2023. Abbiamo l'eremita amici del cancro, periodo probabilmente di riflessione, periodo per qualcuno anche di isolamento e di viaggio introspettivo. Quando c'è la carta dell'eremita è sempre un momento di ricerca della propria verità, un momento di introspezione appunto. Tenete sempre presente che quando c'è l'eremita ci sono anche già le capacità, l'esperienza per affrontare questo tipo di percorso interno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al corso gratuito base di tarocchi e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi cominciamo con un 2 di spade, un 5 di spade, il papa, un 7 di pentacoli, un 2 di bastoni, la carta degli amanti, il mondo e la regina di bastoni al contrario. Dunque devo dire che con questo 2 di spade si parte da un momento di dubbio, un momento di domanda probabilmente o per qualcuno è un bivio, una scelta da dover compiere e con questo 5 di spade tra la benda che ha sugli occhi questa figura e il 5 di spade che indica sempre una sorta di confusione mentale o come la sensazione che insomma sia un periodo un po' pensativo l'inizio di aprile, un periodo dove sarete portati a pensare molto, a riflettere, ma è come se fossero pensieri circolari in realtà. Il 5 di spade potrebbe fare riferimento anche a delle discussioni che potrebbero nascere e normalmente con un 5 di spade sono discussioni sterili, cioè non portano a nessun risultato, a nessun compromesso. Abbiamo anche la carta del papa e ho come la sensazione che qualcuno abbia bisogno di un mediatore o di un arbitro, mi viene da dire. Quando c'è la carta del papa si intende anche una guida spirituale molte volte, quindi può essere che sentiate questa esigenza di rivolgervi a qualcuno che possa condurvi, mi verrebbe da dire. Il 7 di pentacoli normalmente è una carta di attesa però è come se in questo, perché anche qui avete due due, anche questo due è una carta di forte indecisione, è una carta di qualcuno che è ben attaccato a quello che ha nel presente, però è anche una carta di una persona che fa progetti per il futuro, cerca di guardare in avanti, ma con questo 7 di pentacoli ho come la sensazione che ci sia una sorta di impazienza. Però ragazzi, la stesa finisce con la carta degli amanti e la carta del mondo, c'è un cambio, c'è un compimento con la carta del mondo, la carta degli amanti potrebbe parlare sia di amor proprio che di una nuova relazione in armonia e in equilibrio, ma considerando che c'è la carta dell'eremita che è una carta solitaria, ho la sensazione che parli di amor proprio e tenete presente che comunque c'è anche il re di bastoni, anche se è al contrario, però comunque nella lettura c'è come se ci fosse una sorta di compimento per quello che riguarda o la gestione della relazione con una persona o la gestione della persona in sé. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Allora, guardiamo il 2 di spade. Abbiamo un 10 di spade al contrario, un 7 di pentacoli nuovamente al contrario, è un asso di pentacoli. È come se ci fosse qualcosa che non si riesce a lasciare indietro. Ho l'impressione che ci sia stato lo sforzo per o iniziare una relazione, un progetto che magari non è andato a buon fine ed è come se non ci si riuscisse a lasciare indietro quello sforzo, perché abbiamo un asso di denari al contrario, è come se fosse stato perso il seme in un certo senso. Andiamo a vedere il 5 di spade e tenete presente che avendo anche la carta del 10 di spade è come un ciclo appunto che non si chiude e qui non si apre. Allora, questa qua mi è rimasta praticamente nelle mani quando ho tolto dal mazzo il matto e lo lascio lì. Adesso voglio un'altra carta per il 5 di spade. Fante di bastoni al contrario, 4 di bastoni e 6 di bastoni. Allora, è come se da un lato ci fosse la volontà di andare avanti, la volontà di andare verso nuove avventure, di espandersi, di esprimersi, di trovare la propria stabilità. Dall'altro lato invece ci sono idee confuse, ma non c'è un reale progetto su come avanzare per trovare questa stabilità, per riuscire a far germogliare questo seme. Tenete presente che ragazzi avete comunque sia il Papa che il 4 di bastoni. Se siete in una fase dove state aspettando un accordo, dove state lavorando per un contratto, per ufficializzare qualche questione, per stabilizzare qualche questione, avete anche un 6 di bastoni, quindi è la carta del successo. Quindi si inizia a intravedere qualcosa. Può essere che ci sia una maggiore chiarezza all'interno di un gruppo o come questo genere di sensazione, perché il Papa comunque parla di qualcuno che guida le masse e anche il 6 di spade, qualcuno che conduce le masse. Andiamo a vederlo questo Papa. Per qualcun altro ragazzi possono essere conflitti di famiglia, dove o come la sensazione che a causa di questi vostri dubbi, di questa vostra, diciamo anche cecità, nel senso che non siete consapevoli di certe cose, di certe dinamiche, perché non le vedete, vi porta ad avere idee confuse, perché le idee che avete fondamentalmente con questo fante di spade al contrario non sono ben radicate. È come se vi mancassero dei dati per riuscire a radicare. Avete tanto impulso in avanti con questo matto, ma probabilmente manca un sostegno pratico, sia magari un supporto familiare, magari anche semplicemente avere le idee in ordine, che non dà questo genere di concretezza, è puro impulso. Ecco, però sì che comunque avete sia il 4 di bastoni che il 6 di bastoni. Qualcuno vuole aprire un ristorante di pesce? Fatemi sapere! Ho comunque un fast food di pesce. Mi è arrivata questa cosa. O un ristorante dove si fa pesce? Non lo so. Sì, difatti. Allora, il Papa, ragazzi, come vi dicevo, potrebbe fortemente rappresentare un mediatore, perché abbiamo anche questo fante di coppe, è come se ci volessero delle scuse ufficiali. Però tenete presente che c'è anche un set di spade. Io ho come la sensazione che qualcuno qui si è intrappolato in qualche illusione per quello che riguarda il matrimonio o la tradizione. Ricordo che il Papa riguarda i contratti, ma anche i contratti matrimoniali. C'è qualche... Datemi una carta in più per questo set di spade. Andiamo a vedere. 6 di denari, 3 di denari e re di bastoni. Sì. E qualche cosa legata ad un progetto comune, ad un... La condivisione dei beni, potrebbe essere. Se fosse, per esempio, un'azienda, o come la sensazione che voi siate impulso allo stato puro, vorreste dei riconoscimenti in più, magari anche con un aumento di stipendio, ma è come se vi facessero false promesse. Il contratto poi arriva, ve lo dico, perché comunque abbiamo queste due figure che parlano proprio di contratti. Però, probabilmente non è proprio quello che vi aspettate, o è proprio il giusto, l'indispensabile per. Non c'è di più, non c'è un... Un di più, mi viene da dire. Andiamo a vedere. 7 di pentacoli. 6 di coppe. E l'uno è al contrario. Interessante perché sono due carte che parlano di passato. Qui avevate 7 di pentacoli, in effetti. Ho la sensazione che qualcuno, ragazzi, si sia stufato di aspettare qualche offerta concreta, qualche passo certo. E' come se avessi bisogno di qualcuno che, appunto, media, mette un punto e è a capo in quello che potrebbe essere questo nuovo inizio, questa nuova stabilità che state cercando. Ho anche un nuovo progetto, magari, per qualcuno. Andiamo a vedere due di bastoni. 4 di spade. Sì, è che il 5 di spade lo sento molto forte. Avete bisogno di guarire la mente per riuscire a capire da che parte andare. Eh sì. Di fatti. Il 4 di spade è una carta che vi dice, come l'eremita, di prendervi un tempo, di fare il vostro lavoro interno. Normalmente è una carta che parla di proprio un ritiro spirituale, o un ritiro anche in qualche tipo di clinica, anche per una riabilitazione fisica. Ma comunque è un distacco della situazione dove siete. Se non è proprio fisico, è un distacco a livello di azione, come il non fate niente e non dite niente. Fate la vostra evoluzione da soli. Valutate quale potrebbero essere i vantaggi di restare, i vantaggi di andare. I vantaggi di, non lo so, per esempio, appoggiare questa persona o non appoggiare questa persona. Cercate di capire, perché qui è dov'è il vantaggio mio e dov'è il vantaggio tuo. Qua è un po' come capire il vantaggio comune quale potrebbe essere. Andiamo a vedere la carta degli amanti, perché comunque poi c'è quello che è armonia, eh. Abbiamo un 9 di bastoni al contrario, un 8 di pentacoli e un 3 di spade. E' come se dovesse lavorare su questa sorta di dubbio, di ferita. Vi ricordo che qua iniziamo con un 10 di spade. Appunto, un po' destressandovi, togliendovi lo stress, magari appunto con questo ritiro, con questo viaggio in solitaria. Un po' cercando anche di abbassare le difese. Allora, è molto interessante perché nei traocchi tradizionali, vediamo se lo trovo in questi qua piccini. La carta degli amanti, normalmente rappresentata come due figure nude. E questo sta a significare, eccolo qua, e questo sta a significare che per incontrare il vero amore, quello puro, bisogna mettersi a nudo l'uno nei confronti dell'altra, o l'una nei confronti dell'altro. E bisogna mostrare il vero sé. Perché solo così la persona ci conosce al 100% e può innamorarsi di noi al 100%. E questa carta vi ricorda un po' di togliere certi muri, certi ostacoli, certe strutture. Vi ricordo che voi comunque qui avete sia la sedi coppe che la carta della luna. Può fare riferimento, non è così per tutti, però all'idea romantica che avete dell'amore. Perché quando c'è la luna si parla di proiezioni e quando c'è la sedi coppe si parla di una persona che in questo caso, essendo il contrario, romanticizza tutto all'estremo. Quindi l'amore romantico, l'amore di Lìa, quel principio azzurro, i fiori, tutto perfetto, tutto bello. Però ecco, è un po' come se vi dicessero toglietevi questa struttura, lavorate su quelle che potrebbero essere le vostre barriere. Anche l'amor proprio. Perché giustamente molte volte c'è un'idea talmente tanto romantica dell'amore che si pensa che l'amore sia sofferenza, no? Invece bisogna imparare a riconoscere quelli che sono gli amori tossici, quelli che non fanno bene, quelli che fanno soffrire, che non si possono definire amori, ma sono bisogni fondamentalmente. E come lo si fa? Anche, cioè, togliendo barriere che non servono più, ma anche erigendo barriere inerenti all'amor proprio. Quindi quando per voi una persona vi sta trattando male, quando la cosa non è equilibrata, e di solito quando c'è il 6 di pentacoli, si desidera in questo caso un equilibrio reale, pratico, concreto, ecco, c'è bisogno di imparare a rimettere le cose nel giusto verso, diciamo così. La relazione deve far crescere entrambe le persone. Andiamo a vedere questo mondo. Asso di spada è il contrario, e regina di spada è il contrario, e sola è il contrario. Allora, se seguite il filone della famiglia, vi dico che qui potrebbe esserci qualche questione a livello familiare, dove voi avete bisogno di essere riconosciuti, o comunque avete bisogno di andare per la vostra strada, e qui il punto è lavorare la sofferenza, il bisogno di accettazione che avete avuto da parte degli altri fondamentalmente. E lasciarvi indietro, ragazzi, la regina di spada è quando è al contrario, e parla di una persona che tende a comandare un po'. Avete bisogno di riprendervi in mano il vostro potere, avete bisogno di ritrovare la vostra essenza, qui il sole è girato al contrario. Guardate, avete sole e luna, maschile e femminile, che è proprio quello che bisogna rimetterli in equilibrio. Se state aspettando un lavoro, arriva il lavoro, potrei anche quasi dirvi che anche se state cambiando lavoro, ci sarà, guardate, mi viene da dire il lavoro dei sogni, è come se cambiasse il vostro mondo, ragazzi. Non dico che sarà un transito, un passaggio dolce, perché comunque c'è un tre di spade, quando c'è un cambio c'è sempre una sorta di sofferenza, però a quanto pare si andrà verso un mondo migliore, verso un compimento, verso un risultato. Se per caso potete contrattare lo stipendio, chiedete il giusto, non credete alle false promesse, quello che voi firmate è quello che sarà. Se poi vi dicono, guarda, magari fra due mesi, non avete la certezza. Quindi voi potete avere la certezza solo per quello che è firmato in quel momento. Andiamo a vedere ancora un oracolo per darvi un messaggio in chiusura. Grazie. Wow! Carta numero 44, presenza divina, e qui parla della forza dell'amore e della creazione, che è un po' la forza del divino femminile, che è quello che qui ha bisogno probabilmente di essere ricalibrato, riequilibrato. Bene, cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura comunque sia stata utile. Io intanto colgo l'occasione per dire che ho aperto gli abbonamenti al canale e nella sezione degli abbonamenti ci sarà una serie di video esclusivi per chi ha voglia di intraprendere un percorso di crescita con me. Diciamo che il mio vuole essere una sorta di guida, una sorta di filo conduttore per spiegarvi un po' meglio di che cosa si tratta e in che cosa consiste il percorso di crescita. Spero che possiate comunque apprezzare il mio sforzo. Se comunque vi piace il lavoro che faccio potete sempre farmelo sapere con un like, con le iscrizioni, con i commenti, con le condivisioni e di fatto voglio ringraziare le persone che integrano i miei video nei loro canali YouTube, quindi grazie. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!